Non bastavano i finti tecnici dell'acqua, i sedicenti carabinieri che chiedono soldi per i figli coinvolti in incidenti. Ora le truffe viaggiano anche sulle chat telefoniche con uno stratagemma, tanto credibile quanto infido. Un messaggio davvero ingannevole. Ciao papà, mi si è rotto il cellulare, questo è il mio nuovo numero. A dare notizia un carolziese che si è visto arrivare nelle scorse ore un messaggio incriminato sul proprio telefonino. Per un attimo ci stavo cascando, racconta, però ho semplicemente chiamato mio figlio e ho scoperto che si trattava di un messaggio falso. L'uomo ha contattato i carabinieri che ovviamente lo hanno avvertito di cancellare immediatamente il messaggio e non richiamare per nessuna ragione il numero indicato. La truffa sta circolando a livello nazionale in questi giorni, regiunta quindi anche nel nostro territorio. A mettere in guarda gli utenti, soprattutto quanti non hanno molta confidenza con i telefonini, è la polizia postale. Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono, si legge nella notte e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica. Potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno infatti richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente. Secondo le forze dell'ordine, le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali e sensibili. Per questo si consiglia a chiunque riceva questa tipologia di messaggi di non rispondere in alcun modo. Cancella la conversazione, conclude la nota della polizia postale con un appello. E se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica. Proprio come ha fatto il Carlo Ziese. L'avvertimento ora vale per tutti.